Un confine invisibile separa Brancaccio dallo Sperone. Qui la mafia controlla la più grande piazza di spaccio della Sicilia, la cassa continua di Cosa Nostra. Così siamo vicini, ma non vicinissimo. Così siamo vicini, ma non vicinissimo. Così siamo vicini, ma non vicinissimo. Il contatto è gestato preso. Sono preso oggettiamo a porto di ciclo non potente. Il contatto è gesto. Il contatto è gesto. Il contatto è gesto. Il contatto è gesto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.